Andiamo al mare perché questa mattina alle 7.30 c'è stata una tromba marina, una tromba d'aria marina che un nostro telespettatore Michele Longhini ha ripreso dal molo dell'Arzilla e ci ha poi inviato. All'orizzonte come vedete ci sono i cumulonembi, queste grosse nuvole dalle quali scende a un certo punto appunto verso il mare una linea sottile che all'altezza dell'acqua si espande creando un vortice. Non è raro vedere questo spettacolo della natura sulle nostre coste, nei nostri mari, nel nostro mare anche se di questi tempi visto il cambiamento clinomatico in atto c'è sempre un po' il timore che eventi del genere possano da innocui diventare violenti come già accaduto qualche settimana fa nel nord Italia. Il rischio che la tromba d'aria marina questa mattina potesse toccare terra è sembrato subito remoto ma anche se la direzione in cui si muoveva per alcuni minuti era quella della costa.